Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e bentornati in un nuovissimo capsule opening di Xenoverse 2 in compagnia di Tuberanza Ragazzi miei, ci siamo! Sono venuto qui sul canale di Joseph per dargli una lezione a colpi di UR Potrebbe essere una buona sfida per vedere se qualcuno di noi trova qualche UR molto rara come ad esempio Jiren, Gogeta Blue, Jiren UR oppure lui, dillo tu No, io non lo voglio nominare neanche, non lo voglio neanche nominare Lasciatevi prego un pollicione all'insù e mentre lo lasciate pensate a me che trovo l'ultra istinto, grazie Bene così, iscrivetevi al canale, in descrizione trovate ovviamente pure quello di Tube ma basta chiacchiere bro, ci stai? Vai, ci sto, mi metto sul sì? Sei sul sì? Sono sul sì Allora ti dico, 3, 2, 1, via! Ci sono Inizia adesso la sfida, inizia adesso ragazzi Vediamo, io ho iniziato male Io malissimo Siamo in due, cavolo, ma che cavolo è? Il continuo anche peggio, Trunks R Prima UR, androide numero 18, terzo personaggio, subito Che tipo di androide 18 è? Spiegami, in bikini? No, no, è quella vestita, è quella vestita È una UR così, normale, però la prima subito trovata, vedi? Peppo Pazziatone che è subito No, perché se fosse stata quella in bikini era anche molto utile nelle classificate, quindi... Ah, però ce l'ho, dovrei avercela, non mi ricordo, probabile, è probabile Tanto per cambiare, quali non hai? Fammi capire Ce ne sono, te ne manca qualcuna obiettivamente Dispiace Giuseppe Devo maltrattare la mia PS4, sì, devo maltrattarla Ci sta Sento una cattiveria assurda, ci stai? Io sono sul sì Nel frattempo, Giuseppe, vai su Amazon e compra meno un'altra No, no, quello mai, mi dispiace, non la rompere 3, 2, 1, via Vai, oh Mazza, ho fatto di cui il giudice, io l'ho da una botta al joystick E tu ho sentito, di tutte queste botte prima o poi si scassa, eh, te lo dico Ma non fa niente, la paghi tu tanto Prima o poi, ti immagini poi il video, compro una PlayStation 4 a tuberanza, eh Ti immagini Guarda, sarebbe il top Sarebbe il minimo per tutti i Goku 3 stand che ho trovato Niente da fare 3, 2, 1, via Io evo col papa Papa Francesco Lo metto in posizione di difesa Lo metto in posizione di difesa Vediamo Dai, tutta SR, che ci devo fa? Oh Ma dai, su, ma veramente Ma il Goku come per il gioco Ma no Che cos'era, che cos'era quel verso? Stavo per mordere il te Oh, ma c'è VR Ragazzi, attenzione, attenzione Arrivano le VR, un po' alla volta arrivano 2 a 0 Sì, arrivano le VR, sì sì, solo a te però Bene Tanto per cambiare, voglio dire Oh, per la fine dell'episodio Guarda che t'arrabbi un botto, eh Sono sicuro Lo sai qual è il bello? Tipi tutto Te lo dico Tu adesso troverai un'altra VR E andrai a 3 punti Dopodiché arriverò io Troverò l'ultraestinto Ti pareggio E nella stessa capsula io troverò anche Giren UR Ma cosa? Poi mi sveglierò tutto sudato Perché questo non accadrà mai È solo un sogno, un incubo Vai Io sono pronto Ho chiamato Gogeta 3, 2, 1 Via Vai Goget Mamma mia ragazzi Dai Goget Dai Goget Ce la possiamo fare, lo so Dai Al momento 2 a 0 Guarda che è tutto recuperabilissimo, eh Cioè, siamo agli inizi No, vabbè, bro Puoi recuperare Basta che trovi Basta che trovi Vabbè, non è così semplice, però Ti basterebbe Eccolo Eccolo Colpisce ancora Gogeta Goku, blu UR 2 a 1 2 a 1 Yes Oh Goku Super Saiyan God 2 punti 2 a 2 2 pari Con una capsula 3 2 1 Via Combattuta Io ci riprovo Io ci riprovo col Gogeta, eh Io ci riprovo col Gogeta No, posalo, posalo Mi hai spiazzato, eh No, non lo posso Mi hai spiazzato Mi hai spiazzato troppo fino a mo' Non me l'aspettavo Non lo posso 2 a 2 Datti una calmata Ah, pure lei Oh, un'altra UR Androide 18 In bikini Colpisce ancora Gogeta Mamma Oh, Giuseppe Giuseppe No, non mi parla Non mi parlare Ma cos'è sto Gogeta? Ma è buggato Nerfatelo Nerfatelo No, posalo No, non lo posso 3 2 1 Utilizzo il Super Saiyan 3 Via Vai, vai Super Saiyan 3 livello Ok Vai, vai Premi E' premuto UR Piccolo UR 3, 3 Combattutissima Combattutissima Giren SR Dai, dammi Dammi 2 UR In una capsula Così No, non glielo dare No, non glielo dare No, non glielo dare Cioè tu Dammi L'ultimo PG della capsula Dammi una UR No, no, non glielo dai No, SR SR Pensavo fosse Black Hawk UR Invece SR 3, 3 Oh, combattutissima questa di oggi Combattutissima Guarda, io a questo punto devo fare una cosa, Giuseppe Io cerco di superarti Con il Gogeta Nella capsula Delle Capsula UR Sperando nel Giren O nell'ultraistinto Mamma mia Qua sarà dura Qua Qua veramente c'è da sudare Possono scappare i morti Sei pronto? Addirittura 3 2 1 Via Vai Dammelo, ti prego Dammi Goku ultraistinto Ti prego Va bene, pure Giren Gogeta blu Che mi dai? Piccolo UR Broly UR Ma il nuovo Vecchio 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 Possiamo mettere che pure Gogeta, blu E il nuovo Broly valgono tipo un paio di punti Secondo me Che ne pensi? Ma tu Ma l'hai trovato il Gogeta No, Gogeta blu possiamo metterlo due punti Sì E anche il nuovo Broly Dai, va bene Non ci fermiamo qua, ragazzi No Sei andato Vai, vai, vai Sono andato pure io Avevo fatto il 3, 2, 1 Per riprendere la registrazione Perché Ce l'avevamo interrotti Però Si va L'avevo pensato Come l'altra volta Ti ricordi? Eh, vabbè Oh, che stai a trovare tu che non parli? E che voglio parla a fare, Giuseppe Che voglio parla a fare Io mi metto a piangere, mi metto Dai, però sei in vantaggio Che piangi Eh, vabbè Eh, 4-3, piangi Che devi piangere? Devi essere contento Allora, la cosa La cosa che mi fa incazzare È che trovo UR appalate Ma non trovo le UR che cerco O che mi servono Eh, ma nella vita non si può avere Tutto quello che si vuole, eh Non è che... Eh, ragione Eh, ragione 3, 2, 1 Via Io mi sento abbastanza fortunato oggi Penso di poter recuperare E allora adesso ti abbasso questo tuo ottimismo No Lo mettiamo a tacere Perché? Perché adesso ti trovo un UR che ti farà zbavare tutto Ah Pensavo avessi già trovato Quello il problema Ero nel panico Ho detto no No Dai Dai Io trovo Goku che caca No Ma io non è possibile Goku che caca Dai, 4-3 Sei ancora recuperabile Quindi Scusa un attimo Scusa un attimo Che stai a fare? Il martello? Lo sapevo Lo sapevo Ma ora lo faccio pure io Vedi questo No Così Che hai fatto? Mi sono fatto malissimo al dito Oh Eppure io ho dato una martellata Vediamo se funziona così Sì, ho dato da solo Che si fa? No Dalla martellata mi sono chiuso le dita nel tre piedi Vabbè lasciamo a stare 2 1 Via Cos'è? Eh no Che ho premuto ma si è premuto cerchio Perché ho dato troppo forte Cosa? Ma è partita almeno Sì, sì, sì Aspetti Recupero che ne salto un paio Oh Black UR No 5-3 Oh Le martellate funzionano sempre Non è possibile Eh allora mi portano sfiga queste martellate Perdonami Eh Ma trovo perché la tua playstation è abituata a diversi ritmi Eh È normale È abituata ad essere trattata bene Eh È questo il problema La mia è trattata male Sei sul sì? Sì 2 Broly Broly Sì Broly Bro Sono in chiamata bro ma mi hai sconvolto Bro Che cosa ho fatto bro? Il bro Il broly qual era? Quello vecchio Quindi tu hai trovato tre UR in una capsula Di cui uno è Jiren? Sì bro No bro Qua perdo le corde vocali No Qua le riperdo di nuovo Questi sono quattro punti Quindi tu da cinque passi a nove Bro Ho fatto l'unplan Cioè Questo è Ding 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 Knock out Knock out Cioè non ti alzi più No bro Mi sento Mi sento giù Eh no Dai concludiamo quello che dobbiamo fare Perché ormai mi hai distrutto Madonna bro Va bene 3 2 1 Via Ragazzi C'è da fare un piccolo discorso qui Ma che piccolo discorso vuoi fare Zio Martello Tube Questa volta Si è appropriato Della mia fortuna Eccolo qua Arrivamo Gohan del futuro UR Quindi passo a A 4 Adesso Ma è inutile Te l'ho usurpata bro È inutile È inutile La fortuna è stata rubata da Tube La mia fortuna Mamma mia che cosa ho fatto ragazzi Il mio primo Giren UR trovato nella capsula È il tuo primo Giren Il mio primo Giren bro Allora bro se hai trovato Giren presto può arrivare pure Goku Eh no bro mi preoccupa perché poi io mi dovrò rioperare No no stai calmo Apriamo la UR garantita Togliamoci il pensiero Togliamoci sto dente 3 2 1 e Via Vediamo che riusciamo a trovare Però fatto sta Non ho usato il martello Ma direi che può bastare E trovo Goku Super Saiyan Tu Ho trovato Towa UR La capsula più cancerogena del mondo Bro è fortissima Ma quella è in bikini Quella è in bikini ed è super buona Cioè è super buona Quella ce l'ho pure io Questa fa drizzare qualsiasi cosa Questa pure la torre di Pisa drizza Cose da pazzi ragazzi Vai ritorna nel Direttamente su battaglia Che dire Posso fare un ultimo discorso per concludere Ma lascia perde Forse è meglio che lascio perdere Però ho fatto sta ragazzi che qua Tuberanza Ha distrutto qualsiasi mia speranza Vi ho fatto pure una rima Joseph the Rapper Che poi però aspetta Aspetta un attimo È record Cioè io non penso che Perlomeno da quando io faccio capsule opening Non ho mai trovato tre UR nella stessa capsula E non ho mai visto e sentito voi Trovarne tre nella stessa Io sì Di cui uno fu Goku il tre istinto UR Nel capsule opening triplo Quello lì di Blaziken Dove ne sono stati trovati due in totale Se ti ricordi Quello lì che poi ha fatto il botto Il capsule opening Incredibile Quella volta io ne trovai tre Di cui uno ecco Goku Però Adesso devo essere sincero Mi hai destabilizzato Dovrò riandarmi a cercare Un po' la mia fortuna Questo sì Grazie per essere stati oggi Qui con me Ringrazio anche Tube Che mi ha accompagnato In questa avventura E questa volta è riuscito A distruggermi A devastarmi Non abbattermi Quindi gli faccio i miei complimenti Per la sua fortuna Che dire Lascio l'ultima parola a te bro Eh raga Che vi posso dire Sembra che io Sul mio canale Porti fortuna agli altri E il canale degli altri Portino fortuna a me Questo significa Giuseppe Che quando lo registriamo Il prossimo video Per il tuo canale Eh penso Fa un bel po' di tempo Probabilmente A questo punto Facciamo tipo Tra poco Sarebbe male Ma anche no No ragazzi Seriamente Grazie Giuseppe Per l'ospitalità Grazie per avermi fatto vincere E grazie per Averti devastato Ragazzoni Alla prossima E iscrivetevi ora Al canale Cliccando qui in basso C'è anche quello di Tuberanza Qui a schermo Guardate altri video E alla prossima Ciao Ciao ciao